Da quando la Toscana ha dato il via con legge regionale all'Art Bonus nel 2017, i mecenati che si sono fatti avanti per sostenere progetti culturali dai restauri alla rigenerazione urbana hanno donato 4.257.000 euro, ricavando, come prevede la legge stessa, uno sconto sull'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, di 1.132.000 euro. I numeri sono stati presentati al Museo Pecci di Prato, a suo tempo anche soggetto di un progetto sostenuto tramite l'Art Bonus dalla vicepresidente della regione toscana Monica Barni e dalla consigliera regionale Ilaria Bugetti. La Toscana è stata una delle prime regioni a legiferare sull'Art Bonus e ha visto crescere di anno in anno i suoi mecenati, dai 6 del 2017 per 3 progetti finanziati con 80.500 euro di erogazioni liberali ai 30 del 2019 per 15 progetti sostenuti con 2.064.000 euro di donazioni. Nel 2020 i mecenati che si sono fatti avanti sono già 8. Un successo ancora maggiore perché adesso abbiamo realizzato un portale e abbiamo collegato l'Art Bonus regionale con l'Art Bonus nazionale. Quindi davvero in Toscana donare è semplice e insomma anche in qualche modo viene riconosciuto. Se infatti il progetto che si sceglie di sostenere gode anche delle agevolazioni nazionali, lo sconto IRAP del 40% previsto per i mecenati dalla legge toscana sull'Art Bonus può salire fino all'85%. Al momento sul portale internet Art Bonus Toscana sono presenti 48 progetti, 9 dei quali conclusi, che dunque non possono ricevere ulteriori finanziamenti.